con il tenente colonnello Farcoz comandante del centro sportivo esercito oggi qui è alla presentazione delle squadre del comitato Alpi Occidentali proprio da questo volevo partire quanto è importante anche la collaborazione che il centro sportivo esercito ha con tanti comitati non soltanto con il comitato Alpi Occidentali importantissimo come ho detto anche prima quando ho fatto il piccolo intervento la sinergia e la collaborazione tra i comitati del centro sportivo esercito e i gruppi sportivi militari nazionale di stato è importantissima non dobbiamo recedere su questo punto noi continuiamo ripeto a collaborare in questo caso con l'AOC abbiamo due tecnici uno del biathlon e uno della discesa sono molto importanti per il lavoro all'interno del comitato e anche per le indicazioni che poi riceviamo noi per eventuali reclutamenti tra l'altro quest'anno abbiamo concluso proprio da pochissimi giorni abbiamo avuto l'ufficializzazione di due posizioni uno nel biathlon canavese e uno nel fondo serra che sono del AOC e quindi siamo contentissimi di questi due nuovi giovani che faranno parte da 28 dal 28 di questo mese e delle file del centro sportivo esercito siamo stati in Fisi abbiamo intervistato il presidente Roda si è parlato in questo caso di sci alpinismo che è una disciplina cui voi ovviamente da alpini tenete eh moltissimo e insomma ci ha detto Roda che già è stata fatta richiesta dalla Fisi al CIO per portare alle Olimpiadi del duemila ventisei lo sci alpinismo una grande notizia per voi? Sì una grandissima notizia abbiamo già sapevamo già da qualche tempo insomma che c'era questa indicazione c'era questa volontà adesso è stata ufficializzata priorità uno lo sci alpinismo poi c'è anche la slittino pista naturale però lo sci alpinismo effettivamente io devo dire che è il momento giusto insomma anzi poteva già essere magari anticipato un po' con la Cina ma va benissimo così l'Italia e comunque il blocco europeo è pronto per raccogliere questo tipo di specialità c'è una base enorme una base fortissima e sicuramente sarà un successo. Come è il centro spettino esercito così tanto si è legato no allo sci alpinismo è una cosa anche anche storica però anche al lato sportivo dello sci alpinismo lo state presente guidando voi in Italia? Lo stiamo guidando noi un po' perché storicamente le truppe alpine si muovono con la disciplina dello sci alpinismo magari con altri equipaggiamenti però si muovono lo sci in dotazione delle truppe alpine era uno sci da sci alpinismo non uno sci da discesa uno sci da fondo quindi quello è l'aspetto principale poi chiaramente uno vedendo questo tutto questo mondo sportivo questo questo enorme bacino chiaramente si coglie l'occasione si è colta l'occasione con i miei precedenti predecessori perdono si è colta l'occasione per creare un gruppo sportivo creare una squadra nell'ambito del gruppo sportivo e adesso aspettiamo solo questo momento proprio come dire olimpico che è quello che farà la differenza. Negli anni tante medaglie dallo sci alpinismo l'anno scorso medaglie mondiali sono arrivate e importanti anche dal fondo con Francesco De Fabiani e dal biatro con quella pazza gara quel bellissima medaglia d'oro di Dominic Vindici non è la prima medaglia per Dominic Vindici ha vinto anche medaglie olimpiche però credo che quel giorno quella medaglia d'oro a Ostersun sia stato qualcosa di speciale per voi. Esatto il famoso 5-5-5 dei colleghi del tuo collega rimarrà nella memoria ma come rimane poi chiaramente segnato nella storia questa questa vittoria. Si è un movimento il biatro ma comunque tutte le medaglie nel mondo del fondo insomma e nel mondo nordico sono state medaglie non inaspettate tantissimo lavoro dietro tantissimo lavoro dei tecnici tantissimo lavoro della federazione tantissimo lavoro delle dei nostri tecnici sul territorio quindi ci vuole quello che noi puntiamo ancora per il futuro vogliamo incrementare implementare non lo so vedremo vedremo con il biathlon adesso coppa ai mondiali di Anterselva e poi siamo pronti noi siamo pronti. Quante volte te la sei rivista quella cronaca di Puppo su quella su quella gara nel momento quel 5 di Dominic Vindici la verità? Più più volte non lo so però soprattutto a ridosso ma anche adesso ogni tanto quando c'è un post di Dominic che io seguo chiaramente sui social oltre perché ogni tanto sentirlo mi riguardo anche quel momento là perché è veramente ha dell'incredibile ma non è questione proprio di incredibile è essere al momento giusto al posto giusto aver lavorato tantissimo aver curato ogni particolare e poi quando capita una situazione del genere dove c'è un problema una difficoltà saperlo gestire un po' anche fortuna chiaramente è arrivato loro e ce lo stiamo godendo ancora adesso. Anche perché possiamo dirlo non è la prima volta che comunque Dominic riesce a prendersi una medaglia così pensiamo anche anche alle olimpiadi insomma è uno che sa approfittare del momento voglio dire che sia Vindici che De Fabiani sono un orgoglio per il centro sportivo esercito anche come persone non soltanto come atleti. Sì no sono sportivi eccelsi ma anche persone veramente speciali umili direi e hanno tanto tanto da insegnare a tutti i giovani che stanno seguendo. Io vedo che poi tra l'altro i giovani li prendono come punto di riferimento quindi di questa nobile umiltà che hanno sicuramente fa la differenza anche per i risultati che ci danno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.